e bella a tutti ragazzi sono Gio e bentornati su un nuovo video di pokemon go bomberoni avevo già parcheggiato perché come al solito volevo fare un video dove andiamo in giro esploriamo natura eccetera ma mi hanno segnalato non un 100% questa volta uno buono pam ecco qua ragazzuoli ho già aperto il game per non lasciarmelo scappare anche se non l'ho cliccato poteva despaunare questo fenomeno lui eccolo qua purtroppo non è shiny abbiamo fatto anche uno shiny check questo lillipop sappiamo che è possibile shiny all'interno del game però raga non è un 100% bensì adesso andiamo a catturarlo e poi vi mostro la sua valutazione peccato comunque sia che non era uno shiny raga porca di quella miseria anche se mi piacerebbe tantissimo quando magari i miei amici miei amici allenatori mi segnalano un 100% vado lì pam ed esce sciundo porca ci starebbe raga allora questo lillipop 35 pl porca di quella bassissimo bassissimo ma se andiamo a valutarlo ecco qua ragazzuoli è lui è lui 115 15 ottimo per il pvp online infatti adesso andrò a vedere anche prima di tutto se impiegarlo raga se impiegarlo lillipop o le sue evoluzioni perché 35 pl a tirarlo su prima di tutto ci vuole tanta polvere e poi un tipo normale boh chiederò un attimino di informazioni se è il caso di andare a impiegarlo nella lega online in alternativa l'abbiamo registrato allora raga prendiamoci le mission cine qua almeno un altro pacchettino completato e in più ho qua una missione da prendere nel pokestop qua a fianco di cotoni quindi ci facciamo anche un bellissimo shiny check nuovo visto che è appena arrivato in game questo nuovo shiny cotoni pacchettino pacchettino raga pensi chi c'era vulpix mi sembra che la vulpix raga di alola quello bianco bellino bellino attenzione shiny check vi ho già raccontato la sua storia sì raga sì 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 vulpix di alola 354 punti lotta questo qua non ci può scappare raga perché è da missione quindi io andrei potevo potrei andare anche con pokeball raga è perché appunto non ci scappa però io per essere un attimo più sicuro anche per non star lì cent'anni alla cattura di questo vulpix vado con ultra ball ultra ultra bollina tanto abbiamo dato anche la bacca gialla abbiamo raddoppiato le sue caramelline finalmente raga finalmente non riesco a crederci vi avevo appunto detto prima che vi ho raccontato la sua storia di questo vulpix che mi era uscito shiny poi mi era scappato lì eccetera colpa del goccia raga colpa del goccia però eccolo qua il mio primo vulpix shiny di alola neanche messo malaccio un 10 10 15 due stelle e sono contento raga sono contento chiudiamo quel video ciao bomber ma no raga sto scherzando scherzo assolutamente bene così bene così allora ci siamo fatti anche questa qua completata degli spazi per andare a prendere la missione che dovrebbe essere questa consierra forse dovrebbe essere questa qui raga quella consierruccia mi hanno detto due missioni quindi prese vediamo ok sono tutte e due dell'evento attuale cattura 5 pokemon di tipo erba cattura 5 specie diverse di pokemon di tipo erba dovrebbe essere proprio l'ultima quella di cotonino che sculata ragazzi sono contentissimo finalmente di aver trovato appunto questo vulpix era ora era ora almeno così ce li ho entrambi sia quello di alola che quello di canto e qua come siamo messi raga vediamo adesso già capito che però gli altri non li troverò oggi porca di quella miseria giungla ombrosa siamo al secondo step vediamo di proseguire allora andiamo col pokemon vediamo un attimino che ci spunta fuori come ricompense in primis abbiamo chicorita non shiny a brutto brutto così non me ne faccio nulla vediamo anche dopo abbiamo sotto dei ottimi spawn l'ultimo bell sprout lui è fantastico raga a me la forma shine già come pokemon carino carino abbastanza buono nel game però devo dire che la forma shiny che ne ho due raga ne avevo trovata una al canto tour poi uno così in giro è fantastico una colorazione pazzesca giallo dorno più 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 dorato che giallo veramente spettacolare bell sprout shiny fosse stato shiny questo qua l'avrei apprezzato perché appunto penso che era più forte sicuramente di quelli che già ho ride abbiamo creplay creplay che ci invita ma abbiamo anche un cotoni cotoni io leggendario raga tapulella abbiamo già fatto avete visto potrei andare a caccia del 100 per cento sicuramente shiny non c'è ancora quindi io creplay scusami tanto entrerò se mai più tardi se mi inviti ancora ma ne approfitto di fare questo cotoni assolutamente raga andiamo a fare a farci il cotoni però dopo devo trovare anche un pokemon di tipo fuoco per fare un paio di foto due tre foto per andare avanti con la missione speciale spero di trovarlo raga speriamo bene speriamo bene raga ci terrei a trovare anche questo cavolo di cotoni perché sappiamo raga che quando inserisco un nuovo shiny all'interno del game in un determinato evento c'è chiaramente più spawn sorry avevo una chiamata andiamo avanti allora dai 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 ricapitolazione ricapitolazione eccolo qua sfida shiny check primo cotoni primo cotoni porca di quella dai no e beh raga no forse era il secondo ne abbiamo fatto uno cioè non posso andare a trovare lo shiny nuovo appena debuttato in game al primo al secondo al terzo check cioè è illegale ho già capito che cotoni sarà il nuovo drudi raga allora completiamo completiamo eccola qua va non avevo cliccato sarà bloccato non lo so terzo step terzo step della missione a tempo chiaramente ci dedichiamo più a questa ragazzuoli perché poi scade semplicemente mentre l'altra speciale pian piano andiamo avanti non c'è fretta su quella lì ok il gloom faceva veramente schifo terzo step eccolo qua percorri un chilometro cattura dieci pokemon tipo erba usa 15 bacche per catturare pokemon anche qua abbiamo tre incontri con delle ricompense pokemon speriamo siano tutte cotoni mentre qua cosa mi dai cosa mi dai in questa oddio cos'era raga quella di dare tre bacche per catturar pokemon una cosa del genere non la prenderò più allora ma qui dovrebbe esserci eccolo qui eccolo qui eccolo qui l'unico di tipo fuoco raga che me lo marcava sul radar bene bene prima di andare a catturarlo chiaramente facciamogli una due tre foto tre foto ok tre foto fatte catturato andiamo quindi sotto missione speciale eccola qua abbiamo ma qua quanta roba raga allora aspettate che vado a posizionarmi e voilà abbiamo a disposizione 123 tavoli qua raga in più ci sono anche dei tronchi tagliati in piano ottimi per appoggiare roba io dove vado a mettere il treppiedi in bilico quasi un grilla ditemi se che spero che speriamo che non cade allora ragazzuoli andiamo quindi sotto la nostra missione speciale iniziamo dalla prima vediamo cosa ci spunta fuori qua secondo step dai dai parasec ma dammi cotoni dammi quel cavolo di cotoni dobbiamo fare più check possibili diamine quindi secondo secondo dai dai cotoni 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 alomomola alomomola che voi come lo chiamate raga alomomola o alomomola non ho mai capito neanche sto pokemon qua come cavolo si pronuncia eccoci qua terza e ultima del secondo step cotoni marowak di alola mi piace tantissimo raga veramente tantissimo questo pokemon molto molto forte anche all'interno della lega online se avete il giusto marowak di alola con le giuste statistiche andate alla grande io usavo solamente lui ai tempi ormai che facevo il pvp online adesso un pochettino lo sapete che faccio il pvp online però non sono un grandissimo amante allora marowak di alola preso purtroppo non è shiny 11 15 15 punti lotta percentuale iv ok quindi adesso siamo passati al no abbiamo da rivendicare sotto ok che poca roba raga poca roba qui quindi fortuna pezzo stella bene che non ce li ho abbiamo allora terzo step eccoci qua potenza di pokemon 5 volte percorri due chilometri qua e fai le foto a tre pokemon allo stato selvatico bene raga questo qua il penultimo step non ci viene dato neanche un pokemon qua come ricompensa solamente oggetti va bene va bene ma tanta robetta sotto come ricompensa appunto mille punti esperienza mille polveri stella e un pass da parte di oscarone eccolo qui entriamo ci facciamo anche un check dai su tapu raga visto che è appena arrivato all'interno del game nei raid leggendari ne abbiamo effettuati cos'è due o tre pochissimi chiaramente ha iniziato questa settimana andiamo effettuarlo sperando vicino al cento per cento d'altronde è l'ora leggendaria non possiamo non fare un raid almeno uno almeno uno dai dai eravamo dentro in 14 mi sembra raga che boh non mi ricordo dai è andato giù velocissimo non è shiny non è shiny non è shiny 19 63 ok eccolo qua anche quattro caramelle l molto bene raga no ma no ma no ma no che due maroni tre stelle sì però non ce ne facciamo nulla ma raga qui mi segnala che c'è un young goose young goose però non riesce non esce non esce non magari sarà sicuramente dietro il pokestop dall'altra parte provo andare a vedere se mi spona a fare lo shiny check eccolo qua eccolo qua attenzione raga io sto ancora cercando questo maledetto intanto costa scusami costa shiny check young young non è shiny ancora normalissimo mi hanno detto comunque sia raga un mio amico che in un parco abbastanza qua vicino sembra esserci un suo nido e che dite perché no prossimamente ci andiamo a fare un giro ultima cosa raga ecco qua due missioncine e dovrebbero essere anche la terza se non sbaglio boh di cotoni andiamo a vedere shiny cotoni attenzione raga dai arancione giallo no è questa è di sankern ok non c'entra una beata m questa qua dovrebbe essere cotoni attenzione dai shiny cotoni shiny cotoni no verde si vede subito è porca di quella miseria se non è shiny e allora bomberoni diciamo che l'obiettivo primario di oggi era sicuramente cotoni ci è andata un po così così però uno shiny ce lo siamo portati a casa fatemi sapere invece bomberoni qual è l'ultimo shiny catturato da voi e per oggi da gamer joe è veramente tutto mi raccomando l'iscrizione al canale per rimanere sempre aggiornati e se il video raga vi è piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like gamer joe vi saluta e ci vediamo alla prossima ciao bombers